No, guarda questa 155 Ma pensate agli svizzeri Ciao Vicky Ciao Ciao Pioi Allora ragazzi oggi vi portiamo al museo di... Al museo dell'Alfa Romeo Andiamo Ed eccoci all'ingresso del museo Alfa Romeo Ciao ragazzi, buongiorno Buona domenica, non so quando lo pubblicherà Guardate, la matta La matta, la matta si chiama matta La chiamano matta Allora, qui mi sembra uno stand ancora tutto dedicato all'inverno A partire dalla 33 Sportwagon Si chiamava già Sportwagon, vero? No, Giardinetta, la chiamavano Sportwagon Sportwagon si chiamava Ciao Vicky, siamo qui con il nostro amico Che è Michele Cappetti Mi ha conosciuto il suo figlio E mi ha detto Vado via da Milano perché mi ha rotto le palle all'area B Prima di andare via mi accompagna al museo di Arese E gli ho detto Perché no, siamo qua a casa di qua Allora, vedete sapere che lui è innamorato dell'Alfetta GTV Prima o poi se la comprerà Si, è dell'essere dell'84 E' come lui Come me Esatto Ne avevamo vista una bella, ci è scappata per un attimo Vediamo un po' allora questo museo Dai, andiamo a vederci questo museo Ah, uè Consumava con la delta integrale Era il suo bello Era anche il suo bello Nel senso che ci voleva noi I tanti Un occhio sulla pista Sembra uno specchietto questo Così vi faccio vedere per bene come è organizzato il museo storico Alfa Romeo di Arese Adesso c'è questa prima parte che è timeline Come vedete si parte da qui 1910 con questa Alfa 24 HP Vedete c'è tutta una linea del tempo Che gira, 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 gira dal 1910 1990, 2000 Adesso però facciamo il giro come Dio comanda E allora qui abbiamo una 24 HP del 1910 Memorizzatevela E poi andatevela a vedere Guardate che belli segni del tempo Non voglio neanche accarezzarlo che è lì da sempre Poi andiamo qui nel 1911 1515 HP 1925 Il capolavoro di Merosi e la nascita del quadrifoglio RL Supersport Che bella ragazzi Mamma mia ma che Guardate La carrozzeria Tutte le battiture sono Le battilastre queste qua Dio che meraviglia RLSS Torpedo Carrozzeria Castagna Castagna ragazzi Castagna Tra Alfa C'era un Isotto a Fraschini Carrozzata Castagna La settimana scorsa a Monza Era una roba da andare fuori di testa Motore 6 cilindri 3083 cavalli 130 km orari ragazzi Produzione 2600 esemplari Dal 22 al 27 Ma ma qui ci siamo soffermati un po' di più Ragazzi ci mettiamo 10 ore Altrimenti fare sto museo Qui abbiamo una 60750 Gran Sport del 31 Agile, veloce Elegante Icona di un'epoca E' vero Eh si Che meraviglia Che confetto E qui siamo proprio nelle anteguarre Questa ragazzi L'8C23 Corto mille miglia Eh chiacca non la conosce ragazzi Chi non c'aveva il modellino a casa Da bambino Io Sì 1932 8 cilindri 2003 155 cavalli 185 km orari ragazzi Ma Iena Ma Iena eh Che bella Che livello il restauro Che belli i sedili lasciati originali Così come si confà A restauro di un certo tipo 308 esemplari Dal 31 al 34 E qui andiamo già sul comfort Lusso Raffinatezza La 6C23B del 35 Qui c'è un'icona pazzesca ragazzi Saranno fatti sia prima che dopo la guerra Pazzesca eh La fraccia d'oro è veramente stupenda Poi guardate che bella nera Con i cerchi verdi ragazzi Ma che bella Questa striscia verde Che bella ragazzi Allora 680 esemplari 6C25SS Dal 47 al 50 Quindi perché cos'è che mi ricordavo di prima della guerra Che facevano qua Facevano qualcosa però prima della guerra Mi deve Mi deve tornare in mente Scusate Tutta l'eccellenza del marchio d'Italia Ma il mondo sta cambiando Così recita La ditta Dove andranno a ristudiare la La fraccia d'oro Bellissimo La 19 Qui c'è una che mi fa impazzire Scusiamo Mi perdoneranno Ma andiamo subito sul super sprint Dal 54 Touring Superleggera Bianca Che oggetto ragazzi Qui c'è veramente Già si entra in delle linee Più moderne Più filanti Ma c'è la differenza anche di altezza Meravigliosa Mamma che bella ragazzi Che bella Ancora Touring con l'Alfa Romeo Per una vera fuoriserie 599 esemplari 2.000 quattro cilindri 190 km orari Dal 55 al 58 In 599 esemplari Meravigliosa Stupenda Questa me la vorrei portare a casa adesso Stupenda anche questa Giulietta Ragazzi La fidanzata d'Italia Alfa Romeo diventa industria Con la fidanzata d'Italia Eccola qua Così rigida Giustamente La didali 1.3 53 cavalli 136 all'ora 131.000 esemplari Prodotti Dal 55 al 64 Colore Stupendo Meraviglioso Che bello oggetto Ma che bello Com'è sto colore Assurdo Bellissimo Adesso iniziamo ad andare sulle Gran Turismo 2.6 Sprint Ragazzi Pertone 6 cilindri E come recita la dida Corpo da coupé per il vero Gran Turismo Particolare Avete visto sul canale quella di Danielone Danielone 2006 145 cavalli 197 km orari Pensate 6.999 esemplari Da 62 A 66 E chiudiamo con una delle più amate in assoluto Chiudiamo la parte che va dal 1910 al 1000 agli anni 60 Poi dopo Sotto sì Avanti Blu classicissimo La Giulia finalmente Super amata Super apprezzata Quante ne hanno vendute Nammare 572.646 esemplari Dal 62 al 78 Pensate Sarà T No 1.6 Poi dicevano lì T Invece non era T No 1.6 Bene Finiamo questo primo piano della timeline Andando Sono una fantastica Montreal Macchina che montava lo stesso motore della 33 stradale Ragazzi 8 cilindri Qui 2.6 Sulla 33 Era 2.000 Di cilindrata 8 cilindri 197 cavalli 219 km orari 300 3.925 Montra Il prodotto Dal 70 al 77 E' l'Alfa Sud Ragazzi Ma questo è l'Alfa Sud Di Verdoni E' uguale Ma quella ce l'hanno Pensate L'hanno ritrovata I miei amici Di affari Sbullonati Seguite L'hanno proprio L'Alfa Sud Usata nel film da Verdoni Vi ricordate le coppe rubate Eh ragazzi Alfa Sud Nuova impostazione Nuova categoria Nuova fabbrica E tutta sua zia Giulia Così recitava Sulla reclam Alfa Sud N Del 73 900.925 Alfa Sud Prodotte dal 72 All'84 Qui abbiamo la versione 1.2 Col 4 cilindri boxer Da 63 cavalli E' 150 km orari Qua già si va Su un'icona Dei Nostra De Noertri L'Alfetta ragazzi Nome leggendario Grande progetto La tecnologia di Arese Ancora il vertice Scudo stretto Che bella Tutte belle le affette Devo dire Tutte belle Tutte belle Niente da dire 475.722 Alfetta Prodotte dal 72 All'84 Declinate In tutte le varie potenze Qui abbiamo la 1.8 122 cavalli 180 km orari Ragazzi Nel 72 Oh Erano delle bestie Erano delle bestie Andiamo avanti Andiamo avanti Che bello Che bello è State qua State connessi E arriviamo agli anni 80 Ragazzi Vedete Bella questa cosa Dalla timeline Qui ad Arese Al museo storico Alfa Romeo Abbiamo qui una 75 Macchina che andava A sostituire la Giulietta La quale riprendeva la forma Nel corpo vettore Bella Questa è una Twin Spark Bella Bella Sempre stata bella Twin Spark 2.148 cavalli 205 km orari 386.000 macchine prodotte La massima espressione Della meccanica Transaxle Quindi Differenziale Cambio Al posteriore L'ultima Della sua generazione Perché poi In effetti Passammo Alla 164 Vabbè Insomma Era gli stessi anni Però era la prima Trazione anteriore E poi Alla 156 Che era anch'essa Trazione anteriore A me Devo dire Alla 164 Quando uscì Nella 87 Ma proprio Piaceva tantissimo Da subito Linea Pininfarina E la Trazione anteriore Ragazzi Qui abbiamo Un esemplare 3000 V6 Bella Poi rossa Era stupenda Sinceramente Era proprio Bella Sta macchina Rimane ancora Bella Proporzionata Alle sue caratteristiche Pininfarina Avesse la prima Ammiraglia Tutta avanti Appunto 97 Arriviamo Alla 156 Linea Secondo me Bellissima Bellissima Azzeccata Stra Azzeccata Lo stile del futuro Guarda il passato Una nuova era Un grande successo 680.156 Prodotte Dal 96 Al 2007 Ebbene Qui c'era Un grande designer Che ha fatto Un grande disegno Bellissimo Questo azzurro Triplo strato E poi ragazzi Una delle 500 coupé O una delle 500 O una delle 500 Spyder Cabrio Qui al museo Di Arese Ce ne sono 5 Ma sono prototipi Che sono Neanche immatricolabili Vengono usati qua E praticamente Sono extra I mille esemplari Che vi ho citato Ebbene Io qui ricordo Negli anni 2011 2012 Che esemplari Del 2009 Macchini 3 anni 4 anni Con 60 70 mila Kilometri Molti 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 Commercianti Di supercar Non le volevano Ritirare Oggi invece Eri decollata Io l'ho sempre detto Motore Maserati 8 cilindri Di rivelazione Maserati Che poi era La sua volta Di rivelazione Ferrari E Oggi Le battono A 300 350 375 mila Euro Mi sembra L'ultima Che hanno battuto That's it Abbiamo Finito Il primo Piano Di timeline Adesso Andiamo Sotto A vedere La bellezza E poi La velocità Ed eccoci Qui qui Entriamo Nella sezione Bellezza Ammazzo Oddio Oddio La meraviglia Ragazzi Tutte e due A distanza Di pochi metri Pazzesco Non vi fate confondere C'è scritto Due mela sportiva Questa è la C52 disco volante Coupé Ho scritto Credo il primo articolo Scritto L'ho fatto proprio Su questa macchina Io Lo trovate ancora Enrico Di Mauro Motore online Guardatela qui Sarà disco volante Ragazzi Guardatela qua In versione aperta Super leggera Guardate che silhouette Guardate che meraviglia Sentite anche Che bello Sentire un bambino Che è E' qui al museo Ah ragazzi Cos'è Cos'è Meraviglia Andiamo avanti Eh Che vi E io sono le disco volante Che meraviglia Tu puoi avere qua Tutti e due La Coupé E la Spider L'ho detto prima in video Il primo articolo scritto Che ho Il primo articolo scritto Che ho fatto in vita mia È stato su questa macchina Non è troppo bella Giulia Sprint speciale Prototipo 65 Bella Andiamo su prototipi Scioccarla Carabo Aerodinamica 1913 Spettacolo Che bella Sembra uscito Da un cartone animato Spettacolo Foto Andiamo a vedere Questa Iguana Disegnata Da Giugiaro Bellissima Guardate la vernice Prototipi Ragazzi Ma qui c'è un prototipo Che mi fa impazzire E' una delle macchine Per me è più bella Che abbiamo mai disegnato La Pininfarina La 33 Due Coupé Ragazzi Speciale De 69 Foto E poi sulla nuvola Del 96 E qui secondo me Qualcuno La Tvr Si è ispirato Per le Tvr Che vennero Di lì a breve Ma torniamo A vederci La 33 Due Coupé Speciale Che meraviglia Ah spettacolo Ora che bello Interno Vedete i quadri Il tessuto qua E il motore dietro Mi fermo un attimo Adesso qua si va In una zona Speciale Speciale Sono tutte speciali Le zone qua No ma guarda Sti colori pastelli Vado fuori di testa Vado negli anni 30 Prima della seconda guerra mondiale Turi in superleggera Guarda che carrozzeria Che facevano Ma guarda la bellezza Di sto oggetto Malla mia Don sul tono Azzurro Blu 6C23B Millimiglia Del 38 Queste sono le macchine Che piacciono Al mio amico Corrado Grande De Conrad 6C 2.5 Sport del 39 Io grazie a lui Ho avuto L'onore Di salire su degli oggetti Su uno Vabbè Inutile parlare Ciao Corrado Ti saluto Buona domenica Super Sport Villa d'Este Guardate qui Che oggetto Del 50 Sempre 6 cilindri 2005 La reginetta Di concorsi D'eleganza E la fine Di un'era Cioè ti rendi conto Qui l'Alfa Romeo Ancora Che cosa Facero Che cos'era E qui 6C29B Lunga Del 38 Ragazzi Io trovo Questo oggetto No vabbè Insomma Tra lei E la lunga E l'altra Oddio Che macchine Ragazzi Il capolavoro Di Turing Per la massima Espressione D'Alfa Romeo 8C29B Passo lungo Che patina Ragazzi Che colore Che dettagli Che presenza Che presenza Che macchina Guardate Sto Cos'è Delicata Ed elegante Questo Questo Accostamento cromatico Azzurro Come dire Beige Caffelato Non so Mamma mia Sto male Mi sento male Spengo tutto Qualche minuto